ciao a tutti da barbimare e benvenuti in questo nuovo video questa volta vi faccio vedere gli acquistini che ho fatto da bottega verde in realtà è un bel po che non faccio un video acquisti di bottega verde perché non ci sono più andata appunto dall'ultimo video hall che avevo fatto mi sono arrivate sicuramente nel frattempo sulle quattro cartoline ma nessuna faceva al caso mio finalmente ne è arrivata una che mi è piaciuta tantissimo magari a voi anche arrivata uguale alla mia ed è la cartolina dove con un acquisto minimo di 10 euro danno in omaggio il mascara in formato di vendita allora vi faccio vedere il mascara in questione questo è il mascara volume extra black e questo qui lo danno proprio in omaggio senza dare nessun contributo però appunto ovviamente dobbiamo spendere il minimo 10 euro e poi nella cartolina ci sono vari vari sconti infatti allora ho usufruito dello sconto di un prodotto a scelta per quanto riguarda i piedi a 4 euro e 99 e ho scelto di prendere questo qua che è il deodorante per piedi e scarpe con olio essenziale di menta e tea tree oil sudorazione ce ne sono due tipi mi sembra di deodoranti questo per piedi e scarpe poi l'altro forse freschezza non mi ricordo solo per i piedi però questo qua secondo me è il migliore tra i due nel senso è quello che mi piace di più quindi 4 euro e 99 questo che tra l'altro non era neanche sposto meno male che ho chiesto alla ragazza che tanto simpatica e così me l'ha preso dietro diciamo nel magazzino che c'hanno loro quindi 4 99 poi ho visto che c'era un cestino piccolino dove all'interno c'erano a 2 euro e 99 gli shampoo per i capelli con forfora però non mi ricordo a che cosa erano comunque c'era la confezione gialla e poi gli shampoo al ginseng per i capelli deboli e danneggiati allora ho preso questo shampoo qui 2 euro e 99 quindi non c'entra niente diciamo con la cartolina perché c'era lo sconto già di per sé è adatto per lavaggi frequenti adesso non mi ricordo se l'avevo già acquistato tempo fa oppure no non me lo ricordo proprio magari avevo intenzione di acquistarlo non lo so comunque questo 200 ml diciamo che il prezzo per quanto riguarda i prezzi di bottega verde mi sembrava più che giusto e allora vabbè l'ho preso poi 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 e sono arrivati tutte le confezioni natalizie in realtà forse non tutte qui al negozio da me perché ho visto che comunque stavano lessendo i vari scaffali però ho preso due prodottini fantastici sempre per quanto riguarda la linea natalizia però prima di farvi vedere questi questi due prodottini vi voglio segnalare anche perché poi ho preso un altro prodotto 100 per cento di origine di ingredienti naturali vabbè comunque andiamo per gradi allora intanto vi faccio vedere questo è il catalogo della linea natalizia allora vi voglio segnalare che ho dato uno sguardo così veloce e c'è da segnalare che con l'acquisto di un profumo vi danno in omaggio uno di questi tre braccialettini abbiamo quello con le pietre gialle energia creatività con le pietre rosse passione ed emozione e con le pietre rosa calma e serenità quindi non so se in realtà si possano acquistare anche i profumi da uomo ma non penso perché i braccioletti sono da donna quindi penso per ogni profumo da donna poi non lo so comunque la pagina è questa di questo catalogo quindi secondo me questo è da segnalare e poi mi sembra che per quanto riguarda diciamo vabbè oltre le linee nuove diciamo del del natale non c'è nient'altro poi da da segnalare poi poi il 3 e il 4 novembre se vi interessa c'è il 60 per cento di sconto su tutte le confezioni natalizie questo è un'altra cosa da segnalare e poi il 3 novembre qui a savona ma penso anche in tutti gli altri store alle ore 11 c'è il taglio del nastro per inaugurare la stagione natalizia questo poi mi ha dato la ragazza questo questo librettino qua col disconti che vanno dal 2 novembre al 25 novembre è una cosa che ho da segnalarvi qui e questo qui dietro c'è scritto richiedi subito la tua christmas card 2018 e colleziona tutti i premi quindi io penso che questa christmas card sia la stessa della summer card sapete quella card che ci danno diciamo quando in inizia la stagione estiva dove raccogliamo i punti e poi ci prendiamo diciamo per esempio quest'anno c'era la borsa frigo c'era la borsa del mare c'era il porta cellulare quello anti schizzi d'acqua ora io non lo so ma c'è sempre stata questa christmas card perché per me è una novità solo che io appunto acquistato due prodotti di natale ma la ragazza non mi ha detto nulla di saprismo a scard infatti la prossima volta ci voglio andare per andare a richiederla magari se voi ne sapete più di me scrivetemelo in un commentino perché mi interessa anche perché io comunque ne compro spessi di spesso di prodotti natalizi da bottega verde allora ho preso grazie sempre alla cartolina con il mascare in omaggio a 2 euro e 99 quindi mi sembra un prezzo più che ottimo questa nuova matita occhi lunga durata e dove gli ingredienti sono al 100 per cento naturali non al 90 al 98 perché c'è la linea olivo e quella vena dove gli ingredienti sono al 98 per cento naturali qui addirittura al 100 per cento c'è scritto proprio qui anche questa non era esposta c'era esposta solamente quella marrone quella verde quella blu e la nera era lo spazio della nera era vuota meno male che anche per questo ho chiesto alla ragazza e me l'ha presa anche questa dal magazzino quindi magari se non vedete gli articoli esposti vi consiglio di chiedere sempre alla commessa perché magari non non ce l'hanno esposti non so perché o magari perché sono troppo indaffarati per questa linea natalizia non lo so e quindi ho preso queste non vedo l'ora di provarle vi saprò dire com'è perché comunque dato che comunque al 100 per cento naturale se la tenuta è veramente lunga e colora secondo me allora il top mi sembra che costi però 5 99 senza cartolina mi sembra e poi vi faccio vedere allora nuova linea natalizia elisir dei desideri bagno doccia e questo è con gli estratti di frutti di bosco io penso che questa appunto sia la linea nuova perché se l'isidro dei desideri c'era l'anno scorso scrivetemelo perché non mi ricordo nulla comunque 3 euro e 99 questa qui 250 ml non questa qui questo qui che è un bagno doccia però in gel quindi se vi piacciono queste consistenze gelose io cioè vi consiglio di prenderlo perché appunto questo è in gel e di questi ci sono tantissime le ho vissi qua sul catalogo natalizio tantissime confezioni particolari particolari io penso di andare o il 3 o il 4 novembre proprio per usufruire del 60 per cento di sconto anche perché se poi magari più avanti proprio gli ultimi giorni di natale mettono il 60 per cento poi magari non troviamo i prodottini che interessano a noi e poi sempre della dina di natale ma questo c'era anche l'anno scorso perché mi ricordo di averlo già acquistato e bacio sotto al vischio correggetemi se sbaglio ma questo mi sa proprio che c'era anche l'anno scorso e questo è un bagno doccia però questo non mi sembra che fosse in gel ed è con estratti di vischio e cannella sapete che bottega verde a natale porta questi questi prodottini sbrilluccicosi ecco ogni anno vabbè io li compro perché non rimane nulla né mentre vi lavate vedete questi questi brillantini né tantomeno dopo si vedono solamente qua tramite questa bottiglietta altrimenti non si nota nulla vabbè però diciamo che tenerlo così sulla vasca o lì sulla doccia non è niente male cioè mi piace vabbè poi questa volta la ragazza mi ha dato ben quattro campioncini allora intanto vi segnalo l'ode toilette nuovo camelia d'inverno camelia è una ragazza di voi che mi segue sempre con tanto affetto è una ragazza con la quale ci scriviamo anche in privato ciao camelia ti mando un bacione ed è una bravissima ragazza che crea delle cose meravigliose per quanto riguarda festeggiamenti quindi se pensate a camelia pensate a cose belle e tempo fa mi ha inviato delle sue creazioni bellissime bellissime vi lascio il link qui su per andare a vedere il video per chi l'avesse perso e lì ci sono anche tutti i contatti per poterla contattare perché veramente bravissima e io già con lei ho già parlato che nel 2019 ho bisogno di lei per quanto riguarda certe creazioni e direi mi fido perché bravissima comunque questo dei toilette che però non so dirvi com'è camelia d'inverno vediamo se qui dice qualcosa no non dice nulla comunque questo della linea in ettari preziosi poi mi ha dato questo fondotinta my color effetto seconda pelle naturale che dice che adatto per qualsiasi tipo di colorazione che abbiamo di pelle non l'ho mai provato ma mi attira tantissimo poi ecco qui la linea vena la crema mani con gli ingredienti al 98 per cento di origine naturale e poi infatti ve le nominate prima queste due linee è la linea olivo però non è crema mani ma è trattamento contorno occhi che ultimamente sono in fissa con questi contorno occhi sempre con ingredienti al 98 per cento di origine naturale e basta ragazze questo è tutto il mio bottino che ho fatto da bottega verde è stato un acquisto che mi è piaciuto tantissimo nel senso che mi ha rilassato anche perché era veramente da tanto che non andavo da bottega verde e vi chiedo di lasciare un bel like al video se vi è piaciuto e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale mi raccomando vi aspetto tutti tutti iscritti vi mando un bacione grande e ci vediamo presto con un nuovo video ciao e grazie di tutto